buonasera compagni e compagni presenti qui alla serata per ora essere storie un omaggio a lui per la construzione di un monumento questo personaggio dell'empolese toscano personaggio unico e da non scordare infatti perciò questa giornata e quest'altra che verranno per la sua memoria mi pare che sono effettivamente i centrali per le questioni contemporanee che affettano a tutti nel mondo io ne direi due la questione migratoria e il crescimento della destra perciò del fascismo e propongo qui fare una piccola un piccolo intervento collegando nel passato nel passato lontano questi due grandi eventi della storia globale la grande migrazione che è accaduta tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento di qua della quale il popolo italiano fu uno dei grandi protagonisti verso particolarmente verso l'america migrazione transatlantica e poi della lotta contro il fascismo che si sviluppa dall'italia dal 22 poi diverse parti del mondo fino alla fine della seconda guerra mondiale e l'istoria è un personaggio che si muove tra questi due grandi movimenti e fenomeni della storia globale lo fa in un modo molto particolare non essendo un intellettuale non essendo figlio di una famiglia che ha avuto la possibilità di fare degli studi o di avere un background culturale dobbiamo ricordare che il ristori o l'essere storie nacque nel 1874 da una famiglia di lavoratori braccianti aggiornata fra San Mignato e Empoli e che perciò cresce in un ambiente di bassissime istruzioni molto probabilmente non abbia avuto neanche la istruzione formale dell'elementare ma anche così riuscì nella sua gioventù finché arriva l'età un po' più adulta matura sviluppare autodidaticamente con i suoi propri studi una personalità culturalmente interessante capace di esprimersi quando arrivò in Brasile nel 1904 proveniente dell'Argentina nel 1902 anno in cui ha lasciato definitivamente l'Italia capace di esprimersi in due tre lingue parlava bene oltre l'italiano lo spagnolo si muoveva nel francese nel portoghese e con questo li permise di essere il direttore di un periodico in lingua italiana un periodico operario chiamato la battaglia che ha avuto una lunga durata a San Paolo fra il 1904 e il 1913 una delle più lunghe durate di tutti i periodi operari in lingua italiana portoghese e spagnola esistenti nella nell'America meridionale in questo periodo storico dei primi degli anni venti del ventesimo secolo dunque il primo la collocazione a essere fatta a punteggiare e questa capacità di ristori di essere un pubblicista perciò di essere un attivista del movimento che apparteneva dell'anarchismo con i suoi compagni emigrati italiani come lui in situazioni molto di sfruttamento anche perverso e di fare questo dentro le sue concezioni di lotta contro lo stato contro le gerarchie contro i padroni nettamente libertari sviluppate in italia nell'inizio della sua traiettoria come attivista da giovanotto per se stesso è in contatto con i grandi nomi dell'anarchismo italiano con cui ha avuto rapporti paradossalmente per la sua formazione nelle diverse prigioni che ha passato nelle isole in domicilio coatu favignana ustica tremiti dove lui aumenta lo spessore intellettuale e che gli permetterà futuramente in questo periodo migratorio di realizzare una grande opera di pubblicità dell'anarchismo di difesa dei conterrani di difesa dei proletari in generale in brasilia argentina e uruguay allora il primo punto a essere detto mi pare capire un po la storia di questo movimento anarchico in italia e la sua condizione transatlantica transnazionale che oltrepassa le frontiere del paese e stabilisce rapporti diciamo in tutto il mondo atlantico particolarmente e lo fa in argentina e in brasilia e lo fai un modo che il suo nome prima di essere noto in italia si tornò molto noto in brasilia e molto persecutato che lo obbligò a fare movimenti e fughe dal brasilia in argentina prima dall argentina in uruguay ed uruguay in brasilia e poi movimento inverso finché nel 1936 fu espulso definitivamente del brasilia per una dittatura filofascista allora in un primo momento colleghiamo la traiettoria l'azione e l'attività di ristori con la difesa sia del proletariato in generale contadino o camponese in brasile e più specificamente in un primo momento quei connazionali che erano sfruttati dentro di questo grosso fenomeno della migrazione sfruttati nelle fazendas di caffè ossia nei latifundi produttori del caffè questa bevanda che piace tanto agli italiani e che prima dell'arrivo di questi emigrati era basicamente lavorata dai neri schiavi che furono rilasciati dalle fazendas per l'arrivo del lavoro degli emigranti sicché la situazione di lavoro nei primi anni di questo processo migratorio che gli italiani incontrarono le fazendas era una situazione di oppressione molto simile a quella che vivevano i lavoratori schiavi di prima nelle primi anni di arrivo in brasile perciò 1904 nel 1906 la storia si impegna decisivamente nelle sue andate all'interno del paese a una propaganda di sviluppo del proprio essere di nei confronti di questi proletari emigrati con i padroni e con lo stato oppressivo in brasilia e questa campagna che fece questi movimenti verso i suoi connazionali che produrrono un'opera molto interessante contro l'immigrazione un di bellolo che nel 1907 causò una una caduta significativa nel flusso di migrazione verso il brasile tornò a ristori una personalità considerata molto pericolosa sia dal governo italiano come dal governo brasiliano e da lì in poi sarà sempre vigilato dalle polizie già in rapporto di internazionalizzazione argentine brasiliane e quelle italiane dunque l'attività pubblicista di storia si svolge con la costruzione che lui fece di se stesso di carattere nettamente libertario dove fa sempre nei confronti contro tutte le forme di autorità e di oppressione che trova davanti a sé questa è la caratteristica centrale mi pare più importante del personaggio di cui stiamo parlando connettandolo alla storia globale è la questione della grande migrazione internazionale di questo periodo storico che ora non c'è più europei italiani in genere non fanno questo grande movimento migratorio che è un po' accade in modo inverso dai paesi più sfruttati dal colonialismo della prima metà del secolo scorso e dove vengono i nuovi emigrati in direzione alle aree più centrali del capitalismo europa stati uniti canada australia eccetera ma a quell'epoca il movimento era contrario non non possiamo scordarlo e di storia si posiziona sempre a favore di questi trascurati di questi emigrati sofferenti poi un secondo momento dagli anni venti in avanti cristone si trova di fronte a un altro livello del sistema di oppressione che oltrepassa anche lui in quanto sistema politico le caratteristiche nazionali e si transnazionalizzano stiamo a parlare del fascismo che nacque in italia si sviluppa in italia ma oltrepassa in molto le sue frontiere arriva al portogallo alla spagna in germania si trasformano una cosa ancora più paurosa diciamo così diversi paesi dell'america meridionale il brasile parte dall'anni 30 in avanti si tornano filofascisti uruguay meno l'argentina il paese per dove ristori circolò dunque dalla metà dell'anni venti in avanti ristori si trasformò in un continuo consistente e persistente combattente internazionale del fascismo prima del fascismo italiano e lo fece anche in brasilia quei collettivi gruppi antifascisti italiani esistenti in brasilia e poi negli anni 30 doveva luttare anche contro il fascismo dentro del brasilio un filofascismo spinto da getulio vargas il primo dittatore brasiliano di distacco che crea un modello corporativo sindacale molto prossimo molto appicchiato a quello dell'italia fascista questa forte campagna e lotta antifascista li causò l'ultima espulsione del territorio brasiliano nel 1936 stato espulso e mai più torno al suo ritorno ad empoli nel suo arrivo è che voi impolese lo ritrova e lo riconoscete la sua tragettoria preterita particolarmente quella nell'america regionale che era poco conosciuta nella mia ricerca che feci dalla fine degli anni 90 cercai di che diventò libro pubblicato per la franco serrantini nel 2015 di punteggiare giustamente tutto questo percorso che lui fece dal 36 poi la lotta antifascista di ristori si trascorse dentro del proprio territorio italiano o anche fuori perché è riuscito a fuggire arrivare in spagna dare in francia già sotto occupazione prossima ai tedeschi governo di bici e il suo ritorno e rientro ad empoli è un po questa storia già più conosciuta da voi nella quale lui mi pare fa veramente mostra il suo carattere libertario più che l'appartenimento o no al movimento anarchico o l'approssimazione col partito comunista come lo fece alla fine della sua vita quello che rimane in lui è questo atteggiamento di confronto contro l'autorità che quello che lo imprigionò quando gli diede al commissario che lo arrestò il titolo di gelatario perché andava tutto in bianco e ristori è un tipo che dalla sua formazione dal suo autodidattismo dalla sua istruzione istruzione costruita da per sé stesso dal suo comportamento anti erarchico anti indipendente di essere collegato a una federazione un collettivo un movimento nettamente anarchico o avere fatto delle approssimazioni col partito comunista brasiliano con la solidarietà internazionale comunista c'è un episodio che mostra questo quando lui non abbassò la testa i dirigenti del partito comunista italiano e strappò il passaporto il salvo condotto internazionale dicendo che non necessitava di quello è questo carattere di ribellione che ha molta a che vedere con le sue origini di ribellione contro l'autorità istituita io concludo qui il mio intervento cercando di fare questa ultima collegazione questo collegamento fra la caratteristica individuale soggettiva del personaggio costruita da lui stesso con questi grandi movimenti della storia globale l'immigrazione del secolo dell'inizio del secolo scorso e la lotta antifascista vedere che la sua il suo modo di essere sua caratteristica anarchica sempre state presenti nelle sue azioni perciò in questi tempi dove profughi rifugiati emigrati e l'immigrato sempre emigra per forza no per volontà propria costituiscono uno dei grandi fenomeni contemporanei e allo stesso tempo questo aumento che si vede in italia si è visto in brasilia torna in america del norte la propria guerra tra la estrema destra israelense ramas è un esempio di questo il ritorno di questa destra ultranazionalista radicale ci fa vedere che la lotta degli stori è più che mai una lotta presente perciò quello che state a fare per recuperare questa memoria costruire questo monumento spero che possa essere utile giustamente per combattere tutte queste discriminazioni e questo crescimento di questa destra fascista di nuovo al mondo vi saluto vi lascio una una buona serata e questo grazie